5 diplomat brutto, siamo a Italia, Zulu 6, Oscar, uniforme X-Ray, stazione valida un punto. 5 diplomat brutto, siamo a Italia, Zulu 6, Oscar, uniforme X-Ray, stazione valida un punto. 5 diplomat brutto, siamo a Italia, Zulu 6, Oscar, uniforme X-Ray, stazione valida un punto. Avanti ancora, scusa? Ok, 8, 2, 7, 7, Oscar, avanti.